della maggioranza di governo, tu vedi questo governo così compatto, come ha detto anche oggi Giorgio Menoni, l'ha ribadito più volte, che Fratelli d'Italia non ha cambiato posizione sulla politica estera, che la maggioranza è compatta, e quindi tutto chiaro, tutto opposto? Molto chiaro che tutto ciò che oggi si dice da parte dell'opposizione o da parte del governo sulla guerra e sulla politica estera in generale è politica interna, è comunicazione interna ed è anche campagna elettorale in vista delle europee. È una cosa piuttosto triste, ma credo che sia una cosa anche molto vera. La Meloni dice che non abbiamo cambiato posizione, beh sì, se la posizione è sosteniamo l'Ucraina fino alla fine, lo dicevamo e lo diciamo adesso, il problema è che sono finite le armi che gli possiamo dare, i soldi scarseggiano e soprattutto mentre noi diciamo le stesse cose, sul fronte le cose cambiano e anche piuttosto velocemente. Però Meloni oggi ha detto che la strategia occidentale sulla guerra in Ucraina sta funzionando. Allora, intanto vorrei capire qual è questa strategia, perché nessuno ce l'ha spiegata, se non quella che bisogna respingere la Russia, però non bisogna combattere la Russia. Come si possono mettere insieme queste due cose? Ancora non l'ho capito. A meno di non voler fare la guerra mondiale, ma quelle sono le sparate di Macron, che sono fra l'altro anche abbastanza ridicole, perché l'altro ieri diceva che dobbiamo mandare i soldati, non si capisce bene a fare cosa. E poi ieri ha detto, beh, bisogna fare la tregua olimpica, durante i giochi olimpici di Parigi non si deve sparare. Insomma, c'è molta gente che deve mettersi d'accordo con se stessa. Per quanto riguarda le divisioni interne, il governo è Meloni, è inutile che ci giriamo intorno. L'opposizione è tutta una serie di capetti che invece sono divisi su tutto. E quindi vince il leader. E quindi? E quindi vince il leader. Viviamo in un'epoca di grandi leadership. È così. Vince il leader, Marco Travaglio, viviamo in un'era di grandi